I cittadini residenti vicino al termovalorizzatore di Torino sono oggetto di uno studio di biomonitoraggio. Ma che cos'è il biomonitoraggio? Il biomonitoraggio umano è diciamo lo strumento più avanzato che abbiamo a disposizione oggi per valutare l'esposizione umana a inquinanti ambientali. In pratica consiste nella misura della concentrazione degli inquinanti di interesse all'interno di un organo piuttosto che un fluido di altra matrice biologica. Nel caso di Spot l'analisi viene fatta su urine e su sangue a seconda del determinante che vogliamo indagare. In pratica come avviene? Spot prevede il biomonitoraggio su un gruppo di residenti nella zona più vicina al termovalorizzatore che possiamo chiamare gruppo di esposti e in un gruppo di residenti più lontani, sono tutti residenti a Torino e che possiamo chiamare gruppo di controllo. In entrambi i gruppi vengono effettuati prelievi di sangue e di urine per la determinazione di alcuni inquinanti. Inoltre a tutti i residenti coinvolti vengono monitorati anche una serie di indicatori di salute, proprio l'esame del sangue, l'esame delle urine normale, in più viene misurata la pressione sanguigna, in più viene fatta anche la spirometria per l'analisi della funzionalità respiratoria. Insomma un ampio check up per cui i cittadini che si sono prestati possono valutare a un certo punto il loro stato di salute. A ogni partecipante viene fatto anche un questionario dove vengono indagate le condizioni in generale, gli stili di vita e anche le abitudini volutuarie, la loro dieta, la storia lavorativa e riproduttiva. Sono tutte informazioni utili per poter interpretare correttamente i dati di biomonitoraggio. Viene effettuata per entrambi i gruppi prima dell'entrata in funzione del termovalorizzatore e poi viene ripetuta dopo un anno e dopo due anni. In realtà non solo i cittadini residenti ma anche un piccolo gruppo di allevatori che ha l'azienda presente nella zona vicina al termovalorizzatore e anche i lavoratori dell'azienda vengono invitati allo stesso tipo di controlli. Quindi essendo il termovalorizzatore è già entrato in funzione da qualche anno, voi avete già cominciato? Sì, certamente. La prima fase di prelievi è avvenuta prima dell'entrata in funzione del termovalorizzatore, quindi a giugno-luglio del 2013. Un primo follow-up è stato eseguito dopo un anno, quindi a giugno-luglio del 2014, mentre il prossimo controllo è previsto nel 2016. Quali sostanze vengono analizzate con il biomonitoraggio? Dunque il biomonitoraggio prevede l'analisi di laboratorio di alcuni inquinanti, in particolare vengono misurati una serie di metalli pesanti nelle urine, il piombo nel sangue, poi vengono determinati i policlorobifenili, i cosiddetti PCB e le diossine, entrambi nel sangue, infine alcuni metaboliti degli idrocarburi policiclici aromatici, questi invece, nelle urine. E se io volessi partecipare al programma SPOT, cosa devo fare? A chi devo chiedere? Allora, in questo momento non è più possibile inserirsi, perché tra l'altro, sono già iniziati i prelievi, l'ho spiegato prima, già nel 2013. In realtà, essendo che lo studio non è basato su volontari, non era possibile inserirsi spontaneamente, volontariamente. Questa è una delle caratteristiche, diciamo, dal punto di vista scientifico, forse più rilevanti e più innovative rispetto ad altri studi analoghi che sono stati fatti in altri paesi europei. I cittadini partecipanti sono stati estratti a caso dalle anagrafi comunali, è stato un campione di 196 soggetti di entrambi i sessi, compresi tra i 35 e i 69 anni, appunto il gruppo di esposti nei comuni di Rivalta, Beinasco, Grugliasco e Orbassano, mentre il gruppo di controllo nella circoscrizione 9 di Torino. All'interno di ciascuno dei due gruppi sono poi stati selezionate 50 persone, quindi 50, diciamo, di esposti e 50 di controllo, a cui è stato proposto anche il monitoraggio delle diossine e dei PCB. 196 è un numero molto preciso. Come è stato scelto il numero di persone da coinvolgere nel biomonitoraggio? Dunque, il numero di persone è calcolato in base a precise formule statistiche che ci permettono, a partire da quelle che sono le concentrazioni medie di inquinanti presenti nei fluidi biologici, di calcolare qual è il numero minimo di persone che devono essere sottoposte a questo tipo di sorveglianza per poter misurare delle differenze statisticamente significative. Quindi, a partire da quelle che sono le concentrazioni medie dei metalli, questo numero di persone ci permetterà di misurare delle differenze preposte dell'ordine, a seconda del metallo, del 10-20%. Il fatto che il monitoraggio invece di PCB e diossine avvenga solo su 50 soggetti esposti e 50 di controllo ci permetterà di mettere in evidenza delle differenze statisticamente significative del 35%. Questa riduzione è stata fatta essenzialmente per problemi di fattibilità. Purtroppo la determinazione di questo tipo di inquinanti ha costi molto elevati dell'ordine dei 1.000 euro a determinazione e quindi siamo stati costretti a ridurre il numero di prelievi. Dottoressa parlava di una fascia d'età compresa tra i 35 e i 69 anni. Quindi i bambini sono esclusi dal biomonitoraggio? Spot comprende nelle sue attività di sorveglianza tutta la popolazione residente nei pressi del termovalorizzatore di Torino, quindi anche i bambini. I bambini sono esclusi dal biomonitoraggio. Ci sono molti motivi per cui abbiamo preso questa decisione. Per citare i principali, innanzitutto PCB e diossine richiedono un prelievo di sangue molto importante, dell'ordine dei 50 millilitri, che per un bambino è decisamente un prelievo molto rilevante. Alcuni metaboliti, per esempio i metalli, hanno delle variazioni fisiologiche che cambiano con l'età e che sono anche molto veloci nei bambini e che quindi richiederebbero, per poter essere attentamente valutate, prelievi in un numero consistente di bambini. Anche per questo motivo, ma soprattutto per motivi etici, l'OMS infine raccomanda di non effettuare monitoraggio biologico in gruppi particolarmente sensibili, come i bambini oppure i soggetti anziani, soprattutto laddove le conclusioni che si possono trarre possono essere tratte dalla popolazione adulta e questo è il caso di Spot. Noi possiamo avere dei risultati in relazione al possibile inquinamento del termovalorizzatore di Torino, importanti già sulla popolazione adulta che possono essere estesi anche ai bambini. Non c'è quindi ragione specifica di coinvolgerli nel biomonitoraggio. E invece per quanto riguarda le puerpere? Dunque Spot non prevede ricerca di ossine nel latte materno. Ci sono diverse esperienze in questo senso. Diversi studi hanno dimostrato però che la presenza di diossine e PCB nel latte materno è costantemente in equilibrio con la presenza di diossine e PCB invece nel sangue. Riteniamo quindi che la determinazione di questi inquinanti nel sangue sia già sufficiente per darci le risposte che cerchiamo senza dover fare appunto prelievi di latte materno. Anche in questo caso tra l'altro bisogna considerare il fatto che intanto una mamma con un bimbo in allattamento è una persona particolarmente come dire fragile in quel momento che forse conviene non diciamo non disturbare nel suo rapporto col bambino. Ma soprattutto il prelievo richiede modalità particolari, richiede intanto mamme che non hanno ancora avuto un primo figlio, cioè che sono al primo figlio, in più devono essere selezionati in uno specifico periodo dell'allattamento applicando una serie di cautele anche complesse al momento del prelievo. Insomma in sostanza noi pensiamo che possiamo avere risposte in relazione al possibile inquinamento del termovalorizzatore di Torino con i prelievi di sangue nei soggetti adulti e non sia necessario questa ulteriore indagine. Grazie a tutti!